Massi di grosse dimensioni si sono staccati dal versante montuoso attorno alle 18 di mercoledì 9 settembre in località Cossaglio a Parre, andando a dostruire la strada sottostante, trascinando con sé piante e terreno. Uno dei massi ha scavalcato le recinzioni e fortunatamente non ha raggiunto la cascina presente in località Meresa. Tempestivo l'intervento del sindaco Danilo Cominelli che ha proceduto ad ordinare la chiusura del tratto viabilistico, il cui transito interessa prevalentemente i proprietari di Baite e Cascine. Si tratta di una frana di grosse dimensioni e fortunatamente nessuno in quel momento transitava di lì, è stato il commento a caldo del primo cittadino. Va detto che da poco tempo era terminato un intervento di messa in sicurezza della porzione di versante posta circa 100 metri prima del luogo interessato dallo smottamento di ieri. Ora sarà necessario intervenire per mettere in sicurezza quest'altra parte di fronte roccioso. L'incontro programmato per la giornata odierna con l'ufficio territoriale è servito per predisporre il piano di intervento per la messa in sicurezza di questa zona.